Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Convegni Diocesani, spero la visualizzerete e condividerete. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Convegni Diocesani perché i cristiani nel profondo si riuniscono per discutere sui problemi di fondo, per poterli così poi migliorare e poter dare il meglio nella società. Bisogna potenziare la fede in un mondo che si evolve, cercare di trovare delle soluzioni per aiutare chi crede ad essere più gioviale, più presente nelle parrocchie per i vari esempi di fede che si compiono. I convegni nella diocesi, quindi dei responsabili parrocchiali, sono fatti di molte ipotesi per invitare molta gente ad essere più umili. Si prendono esempi dei santi, si parla del Vangelo, si parla degli esempi di vita, per dare il là a tante cose belle e divine. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Convegni Diocesani. Cristiani nel profondo si riuniscono per discutere i problemi di fondo che dovranno migliorare, potenziare la fede in un mondo che si evolve per aiutare chi crede ad essere più presente, convegni nella diocesi dei responsabili parrocchiali, fatti di sacre ipotesi, per invitare ad essere più umili. È una riunione di passione dove il Vescovo chiede impegno per continuare con intenso amore a donare al mondo carità e orgoglio. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.